Inaugurato il nuovo ponte che collega la strada provinciale 83 al parcheggio della spiaggia di Fontanamare nel comune di Gonesa. La nuova infrastruttura è stata ufficialmente aperta al traffico. Era aprile del 2020 quando il vecchio ponte in cemento armato crollava mentre era in transit un camion per la raccolta della nettezza urbana. Naturalmente prima come si fa per l'inaugurazione bisogna procedere con il ringraziamento. Per quanto mi riguarda credo che sia necessario ringraziare tutte le maestranze, i lavoratori che si sono adoperati perché la cosa potesse essere realizzata, diciamo così, nei tempi dopo che è stata fatta la nuova gara d'appalto per l'affianamento del servizio, così come tutti quelli che si sono adoperati per renderlo possibile. Naturalmente l'ingegner Mistretta, Fausto Mistretta che è il progettista di questo ponte, l'ingegner Tiragallo che è il responsabile del procedimento, così come la regione Sardegna che ci ha finanziato l'opera, così come è necessario dire due parole anche per tutti coloro che si sono adoperati a vario altro titolo. Naturalmente la mia amministrazione comunale, i miei colleghi di giunte, di consiglio comunale, così come anche il mio predecessore Cavidu che ha fatto la sua parte per lavorare in questa direzione. Oggi inauguriamo questo appunto, si dirà era ora, lo dico io per primo, era ora, così evitiamo che tanti altri lo dicano dopo immediatamente, saranno secondi nel dirlo, non lo diciamo per prima, era ora perché, anzi lo diciamo in sardo, fiare ora, perché non se ne poteva più dopo tanto tempo che quest'opera potesse essere resa nuovamente fruibile per coloro che ci devono transitare. Mi associo ai ringraziamenti infatti sino ad ora, estendo gli stessi ringraziamenti allo staff che insieme a me ha lavorato affinché tutto questo si realizzasse, staff esteso a tutti i settori perché ovviamente un'opera di questo tipo per essere conclusa ha bisogno del contributo di tutti i settori che costituiscono un'amministrazione comunale. Ringrazio ovviamente tutte le imprese, nessuna esclusa, perché dal punto di vista dell'inaugurazione di questo ponte che è stato fortemente voluto nei tempi certi dati dal sindaco affinché si avviasse la stagione balneare, ha richiesto anche non più tardi di un'ora fa che le ultime squadre fossero presenti sul posto per completare e rendere totalmente fruibile la struttura. Quindi avete capito che l'impegno nostro, del sindaco, dell'amministrazione, del sottoscritto era quello di garantire la fruizione completa della stagione balneare che ci auguriamo anche alla luce di questa innovazione, di questo ponte che è il primo per l'appunto in Europa sia di buon auspicio. Anche io ringrazio tutti in primo luogo l'amministrazione, per noi è stato un onore poterci mettere a disposizione e poter dare il nostro contributo nella realizzazione di questa opera iconica come è stata anche definita degli aspetti tecnici già ha parlato ampiamente il progettista, ingegner Mistretta io posso portare la testimonianza sull'impegno che noi abbiamo messo per tradurre e realizzare quello che era previsto nel progetto e per condurre le prove di carico su degli elementi prototipo a scala reale che erano già previsti nel progetto sono delle prove non abitualmente previste per un'opera qualsiasi quindi quello che posso garantire è che il ponte oltre ad avere una capacità superiore alla domanda richiesta dalla norma sicuramente durerà molto più a lungo di quanto prescritto dalle norme vigenti in virtù dell'utilizzo che è stato fatto nella sua parte corticale di armature in GFRP che insieme al copriferro proteggono il cuore della struttura dove ci sono invece gli elementi metallici che si occupano diciamo provvedono alla portanza degli elementi. Ringrazio ovviamente Imprese, tutto il team che mi ha dato supporto della mia azienda, dei miei collaboratori quindi il dottor Pisu, l'ingegner Serra che sono lì dietro e poi ovviamente l'impresa Manini, Sireg, poi il socio dell'ingegner Casali che è stato uno dei supporti maggiori anche dal punto di vista dei calcoli e poi abbiamo fatto delle ricerche all'università, abbiamo fatto delle prove su delle travi intere quindi abbiamo collaudato l'altro giorno è stato collaudato con dei carichi enormi e abbiamo avuto anche il supporto dell'università di Miami che in America questa tecnologia ormai viene utilizzata praticamente in quasi tutti i ponti e ci consente che ci ha dato diciamo anche un supporto scientifico per cui insomma girerà il nome di questo ponte sta già girando e girerà ancora a Parigi. Un ponte ibrido, il primo in Europa che unisce necessità con tecnologie e innovazione le travi prefabbricate utilizzate per la ricostruzione dell'opera sono state realizzate con una tecnica costruttiva futuristica basata sull'utilizzo della fibra di vetro Grazie a tutti Grazie a tutti